I genitori e i fratelli che meritano un grande applauso perché hanno avuto una tenacia e una costanza sono ammirabili perché vi hanno portato avanti per tutti questi giorni questa consapevolezza che andavamo verso qualcosa di importante e questo evento, i ragazzi sono qui proprio per testimoniare che questo evento ha smosso proprio i cuori, i ragazzi anche in questo momento ne avevano proprio bisogno perché veniamo da un momento molto duro e hanno avuto l'opportunità di concentrarsi ed esprimere le proprie emozioni, si sono dati alla grande tutti i ragazzi delle scuole di Mugnano, della scuola media, della scuola superiore e loro che sono presenti stamattina al di là del premio che riceveranno sono proprio la dimostrazione di quanti impegni hanno messo, di quanta sofferenza c'è nei loro lavori ma anche di quanta gioia infatti Angela ha smosso i loro cuori, le loro anime e si sono dati col maggior impegno possibile questi sono i ragazzi del liceo artistico multimediale che è stato implementato a Mugnano, una serie di Mugnano già dall'anno scorso e hanno portato i loro lavori, prego mostrateli al pubblico grazie grazie